Musica Restauro dell'ex farmacia dei frati, le vie dell'America Summit Iniziati i lavori per la realizzazione di un nuovo parcheggio in piazza San Giovanni Paolo II Tariffa agevolata per residenti al parca Sarotti Musica Sono 300.000 euro i fondi che verranno investiti per il recupero dell'ex farmacia dei frati Il comune di Chiavari sta a prebandire la gara per il restauro e rifacimento dell'edificio in viantella In seguito all'ottenimento di un finanziamento a fondo perduto pari a 270.000 euro erogati da regione e a 30.000 di fondi propri Un immobile per decenni utilizzato come magazzino che un tempo fu la farmacia dei frati Dopo varie vicissitudini i proprietari lasciarono l'attività nel 1864 Si susseguirono poi molte famiglie fino al 1975 L'obiettivo è quello di concludere i lavori entro la fine dell'anno per restituire a Chiavari un altro luogo dove poter Ammirare la storia e l'arte sia quella presente che quella che sarà esposta grazie all'organizzazione di mostre ad hoc Uno spazio che insieme ai lavori di creazione del museo della città in piazza Matteotti Contribuirà alla realizzazione di un vero e proprio polo culturale della città Le vie dell'America Summit, un evento promosso dal comune di Chiavari Che si inserisce all'interno del percorso avviato dall'Economic Forum Giannini 2021 Diventando così una preview per l'edizione 2022 È stato dedicato all'emigrazione ligure che ebbe le sue più profonde radici a Chiavari In Val Fontana Buona, in Val Graveglia e in tutto l'entroterra del Tiguglio Diversi i temi che sono stati affrontati, dall'analisi del contributo apportato dai discendenti degli emigranti All'economia e allo sviluppo delle città che le ospitarono Alla necessità di conservare la memoria collettiva e tramandarne le testimonianze Si è parlato anche di promozione culturale, turistica ed economica del Tiguglio e dell'entroterra Con uno sguardo internazionale alle iniziative da realizzare oltreoceano Valorizzando il brand Riguria anche grazie agli ambasciatori liguri Sono iniziati i lavori per sistemare e riorganizzare l'area ex allaggi in Largo Ravenna Consentendo così la realizzazione di un nuovo parcheggio L'intervento fa parte del progetto complessivo di riqualificazione di Corso Colombo Fino al sottopassaggio di Viale Tito Groppo per una spesa pari a 190.000 euro Saranno realizzati circa 35 stalli auto all'interno di un'area di 800 metri quadrati Un'opportunità in più per parcheggiare in passeggiata mare due passi dal centro I lavori proseguiranno con la creazione di un aiuola a sparti traffico in Largo Ravenna Aiuole verdi in Viale Tito Groppo Nuove impianti di illuminazione e di raccolta delle acque meteoriche La sistemazione di un tratto di pista ciclabile di una parte del marciapiede della via Sarà così rinnovato il fronte mare, aumentato il verde e la viabilità del territorio È stata attivata questa settimana la tariffa agevolata per la sosta dei residenti a 50 centesimi l'ora, 7 giorni su 7 I cittadini chiavaresi potranno registrarsi online sul sito istituzionale del Comune di Chiavari Oppure sul portale di Marina Chiavari E ritirare presso gli uffici del Parque Cattaneo un'apposita tessera che consentirà di procedere al pagamento Per accedere al servizio è necessario fornire il proprio nominativo, il numero di carta d'identità, l'e-mail, il numero di telefono, la targa, il modello del veicolo, l'autocertificazione di residenza e l'autodichiarazione di possesso del mezzo I lavori di restaile in ampliamento del Parque a Sarotti hanno consentito di portare a 185 posti auto totali Rinnovando la cassa e introducendo un nuovo sistema automatico di riconoscimento delle vetture Che una volta registrati su online come residenti permetterà di pagare a prezzo orario ridotto Il primo summit delle vie dell'America ma soprattutto un'anticipazione dell'Economic Forum Giannini Un summit che si parlerà di turismo, di cultura, si parlerà di economia Anche perché l'emigrazione chiavarese di tutto il territorio è stata estremamente importante E ha interessato tutte e due le Americhe, sia l'America Latina che l'America del Nord È un summit a cui teniamo molto perché sarà anche un summit di lancio per la seconda edizione dell'Economic Forum Giannini E sarà di lancio anche per la riedizione di una festa importantissima che si teneva ogni anno a fine luglio a Chiavari Ed era la festa del Perù Quest'anno questa festa che organizzeremo in collaborazione con Promotur sarà una festa dedicata a tutta la nostra emigrazione Perciò la festa del Perù diventerà la festa dell'America Summit che avrà relatori importantissimi Ci saranno delle cose estremamente interessanti, anche delle novità, delle news E perciò non vediamo l'ora di partire Qui a Prato Nevoso Oggi è una bellissima giornata Come sta andando la stagione scistica quest'anno dopo un anno, l'anno scorso di chiusure? Come va quest'anno? Direi molto bene Nonostante non ci siano nevicate Però riusciamo a farla artificiale Quindi la gente è contenta delle piste che ci sono E quindi direi che va molto bene Oggi siamo anche in compagnia dell'associazione Discesa Liberi Che si occupa di far sciare persone con disabilità di diverso genere Voi che impegno mettete in questa? Come funziona? La pista va preparata in maniera diversa? No, la pista va preparata come per fare delle gare normali O gli allenamenti normali Per la gente normale In più gli abbiamo riservato il mercoledì Per tutti i disabili che vogliono allenarsi Dalle squadre nazionali ai club come discesa liberi Siamo in compagnia di Andrea Capurro Grande sportivo, motociclista Raccontaci un po' le tue esperienze sportive Beh, io oggi compio 51 anni E diciamo che ho una disabilità che non mi consente appieno l'uso delle gambe Però nonostante ciò sin da quando ero piccolo Sin dai 10 anni ho iniziato col motocross Sono assistente istruttore di sub Ho fatto arrampicata, kayak, tutto Oggi un tempo meno Ma oggi grazie alla tecnologia Anche i disabili Volendo e credendoci Possono fare cose che al solo pensiero sono inimmaginabili Fino a qualche anno fa Io correvo in motociclismo velocità in agonismo E ho una grande passione per la pesca d'altura anche Quattro anni fa, cinque anni fa Tra il 2017 e il 2018 Ero qua che guardavo i miei figli che stavano sciando Che iniziavano i primi passi sugli sci E ho visto scendere una persona con questo strumento Che è un monosci Che consente a chi ha disabilità, paraplegici O problemi alle gambe come me Di poter provare l'ebbrezza di sciare sulla neve Ho voluto subito provare Poi questa persona che io avevo visto Ha diventato un caro amico, lui è stato anche in nazionale Quindi avevo visto sciare una persona molto brava E da lì ho subito voluto provare Dopo qualche ora iniziavo già a sciare da solo Grazie a quello che ho trovato qui a Prato Nevoso Ho trovato una situazione incredibile Una familiarità e grazie alla Prato Nevoso SPA E a discesa liberi e ai tecnici, le guide, i maestri specializzati Nell'assistenza ai disabili Ho trovato un'atmosfera che mi ha dato Quella sicurezza e quella carica in più Per appassionarmi all'agonismo anche sullo sci paralimpico Come nasce discesa liberi e di cosa si occupa? Nasce dalla volontà di stare all'aperto Nel senso che io volevo fare qualcosa all'aperto Che non fosse il mio lavoro ovviamente E quindi ho detto fare qualcosa che possa essere utile Ma non volevo che fosse in assoluto Poi con conoscenze, amici e gente che abbiamo fondato discesa liberi Discesa liberi è un'organizzazione Che aiuta a sciare tutti i tipi di disabilità Che siano fisici, mentali o sensoriali Nel senso che i seduti, i cecchi, i povedenti E naturalmente anche quelli che hanno turbe mentali E li aiutiamo in tutti i modi e in quanto possiamo Sono ligure, si sente dall'accento Mi fa piacere dirlo Aiutiamo i disabili in assoluta e totale gratuità Perché deve essere così Da quanti anni è attiva questa associazione? L'evoluzione come è stata? L'associazione viene fondata nell'inverno del 2011 2012 la prima stagione Siamo stati fortunati e siamo stati aiutati E siamo tuttora aiutati Nel senso che a parte la stazione che sono meravigliosi Perché danno disponibilità Poi avete sentito il direttore Piste che cosa diceva Siamo stati aiutati ma anche un po' dalla fortuna Perché nel 2014 la Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici Credendo in noi Faccio un gesto così di qualche un po' a busta chiusa Ci ha dato il compito di organizzare i campionati italiani paralimpici a Prato Nevoso La prima volta e l'unica finora Dove sono stati fatti nella stessa settimana Sia i campionati di sci alpino Sia i campionati di sci snowboard E sia di fondo nordico Abbiamo avuto la fortuna di essere stati incaricati Di organizzare tre gare di Coppa del Mondo Paralimpica Nel 2020 Nel gennaio del 2020 L'unica tappa italiana di Coppa del Mondo Anche questo è merito di tutti Merito della stazione E gli allenatori, gli atleti E tutti quanti gli organizzatori della World Paralimpica La Bineskin sono stati contenti Tanto che ha detto che sarebbero ritornati nel 2021 Poi sapete cosa è successo nel 2021 Quest'anno 22 Difficilissimo poter fare Coppa del Mondo Perché prima c'erano i campionati del mondo paralimpici Poi ci sono le Olimpiadi Poi ci sono le Paralimpiadi Per cui gennaio stava stretto E quindi non ci hanno dato questo incarico Che dicono in sede organizzativa Che ce lo daranno nel 2023 Ovviamente questo sarà una cosa che speriamo che avvenga ancora Noi ci troviamo a avere una sezione Racing Team C'è una squadra Dove ci sono, come avete visto, i seduti Come Andrea Cappuro Ma soprattutto noi abbiamo due atleti Che saranno le prossime Olimpiadi Le prossime Paralimpiadi Michele Biglione Che è un seduto Un ragazzo di 30 anni Che sei o sette anni fa Ha perso in moto una gamba Ha trovato il fondo da seduto E adesso dopo tre anni Parte e va a fare le Paralimpiadi Come un buon outsider In più abbiamo un Come lo chiamiamo noi Un toro seduto Uno che fa ice hockey Da seduto Che si chiama Michele Lanza E poi abbiamo degli atleti Che fanno Coppa Italia Quindi adesso è un'evoluzione Che ci, devo dire Personalmente mi spaventa un po' Bisogna vedere se siamo all'altezza Di continuare in questo modo Certamente chiederemo aiuto a tutti Che tutti ci danno aiuto In questa stazione Tutti, ma non soltanto la stazione Ma tutti, tutti, tutti Un atteggiamento positivo Verso un mondo che io credo Ottimisticamente parlando Ritorni o andrà ad essere Un mondo di comprensione Di tolleranza Di amicizia Di cose E vi consigliamo di venire a Prato Nevoso Vedere come è Prato Nevoso Per quanto riguarda noi Ma vedere venire a Prato Nevoso Per quanto riguarda l'organizzazione Devo dire E mi fa piacere dirlo E voglio dirlo Che Santo Stefano Daveto Ci ha sempre dato la disponibilità Per poter andare là Certamente che l'anno scorso Che c'era un po' più di neve Non siamo potuti andare Quest'anno c'è un po' meno neve E quindi siamo un po' in difficoltà Quindi l'atteggiamento positivo Nei confronti nostri È di tutte le stazioni Anche la Fisi La Federazione Italiana Sporti Invernali Nella presenza del Comitato Liguri Ci ha sempre dato una mano Sono sempre stati meravigliosi In questo momento state facendo un corso Per chi volesse far parte di questa associazione Come deve fare? Allora noi stiamo adesso facendo un corso guide Che è un corso con il programma Della Federazione Italiana Sporti Invernali Paralimpici Un programma loro Devo dire abbastanza pesante Con lezioni teoriche Aria medica Aria psicologica E area legale E poi lezioni pratiche Che voi avete visto Questi corsi vengono fatti A domanda nostra Voglio dire Se abbiamo difficoltà A seguire tutti i disabili Perché abbiamo tanti disabili Che adesso vengono qua da noi Abbiamo necessità di avere più guide Chi invece volesse venire Aiutare Vedere Basta che venga a Prato Nevoso Oppure www.discesaliberi.it E lì c'è scritto tutto Con tutti i nostri riferimenti Noi più gente abbiamo Che viene a Prato Nevoso Meglio è Perché Vedere è assolutamente meglio Che descrivere O pensare O leggere Sulle nostre cose Quest'anno dal punto di vista Delle nevicate Non è stata una stagione Non è una stagione Molto fortunata Nonostante questo Il fondo è ottimo La neve regge bene Ed è bellissima Qual è il vostro segreto? Il segreto è che Appena c'è un po' di freddo Che riusciamo a sparare Spariamo E quindi I laghi Devono sempre essere Con un pochino di acqua dentro Per riuscire a fare Quei dieci centimetri Che ci portano A partire Andare E far divertire la gente Prato Nevoso È Prato Nevoso Per i disabili Prato Nevoso È per le famiglie Prato Nevoso È per la gente Che scia bene Prato Nevoso Per quelli che sanno sciare Mezzo e mezzo Prato Nevoso Prato Nevoso è tutto Poi La conca è una meraviglia Il sole L'ambiente Non c'è vento Raramente c'è vento Quindi è una bella cosa E poi una cosa curiosa Che può essere utile Prato Nevoso Si mangia bene Tutti i locali Di Prato Nevoso Fanno da mangiare Da quelli A livello normale A quelli super Vedi La rossa Per esempio Che è una cosa meravigliosa Si mangia bene Di notte andare a mangiare La rossa È una cosa stupenda Perché avete tutta la pianura Padana davanti Merita proprio Di venire a Prato Nevoso E venite a vedere noi Quello che facciamo Con discesa libera Che ci ha dato una spinta In più Di quella che già abbiamo Ma se venite Ci venite a cercare È una cosa meravigliosa Ve lo chiediamo quasi Per favore Dateci una spinta Una buona serata a tutti La giornata di domenica 27 febbraio Sarà caratterizzata Da bel tempo E ventilazione Moderata da nord Temperature stabili E con questo è tutto Di nuovo Una buona serata Bellata di domenica 27 febbraio